Lanciano gli appelli all'impresa ritenendo la stretta alleata della ripresa economica, tracciano il percorso pubblico privato ritenendolo l'unico asse dell'inversione, ma poi, quando l'impresa risponde, alzano ostacoli di fattibilità compromettendo l'investimento. Strano. L'appello all'impresa il Comune l'ha fatto nel processo della riqualificazione delle periferie. Uno degli ingressi di Foggia, via Manfredonia, area ex consorzio agrario, attualmente dimora abusiva di extracomunitari, più volte sgomberata, potrebbe essere riqualificato. C'è un progetto impolverato tra le carte della Commissione Territorio da due anni. L'impresa vorrebbe riqualificare l'area concedendo ampi spazi per il verde pubblico, parcheggi oltre un'area in cui edificare un museo per tutelare la valenza storica della vecchia sede dell'ex granaio d'Italia. Un investimento robusto per nuovi centri commerciali nel rispetto delle norme. Niente a che fare con l'edilizia residenziale. Un progetto che andrebbe a riqualificare un ingresso della città atteso da 40 anni. Il sindaco dice che vorrebbe sbloccarlo, ma deve fare i conti con i gruppi politici. Faccio appello anche ai miei consiglieri comunali, quando un po' ritardano in questa voglia di capire, legittima, ma bisogna anche capire i tempi dell'impresa, perché se noi diamo risposte immediate e con i tempi dell'impresa noi rischiamo di disincentivare gli investimenti. Io ritengo che ogni progetto sia legittimo e ogni progetto deve avere un'ampia discussione, ma che questa discussione abbia anche un punto fine e un termine concreto. Quindi io auspico che dopo il bilancio consuntivo ci sia da parte delle forze politiche, perché il sindaco può sollecitare, ma se vi è la parte politica, i partiti, i consiglieri comunali che frenano questa mia voglia di fare e di dare risposte... Ma per quale motivo c'è la possibilità di riqualificare un'aria dopo 50 anni? Cioè eliminare il risciottacolo di extracomunitari? Vi posso invitare, visto che a me piace quel progetto e se no non sarebbe neanche approdato in commissione, quindi c'è la volontà che se non ci fosse stata la volontà mia non sarebbe neanche arrivato, non sarebbe stato consegnato neanche nella commissione territorio dove ci sono i consiglieri che rappresentano i vari partiti e rappresentano la città. Quindi io la mia parte l'ho fatta. Questa domanda invito lei e la sua emittente televisiva a rivolgerla a chi sta in commissione e chi deve esprimere il parere.